Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Anziano muore mentre attraversa la statale 16 investito da un'auto Un uomo sorpreso a rubare farmaci all'interno dell'ospedale di Pesero, arrestato Presentate in Regione, una mozione del consigliere del PD, Talea, a sostegno dei disabili gravi Ancora polemiche sul punto nascite, il centrodestra fanese insiste, non vogliamo che i futuri nati siano tutti pesaresi Edera e Giuseppe, uniti in matrimonio da 70 anni, un vero record Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, questo è il telegiornale Occhio alla Notizia Ieri nell'immediatezza della notizia vi abbiamo riferito di un fatto di cronaca Che stava avvenendo in quei minuti, mentre eravamo in onda con il nostro telegiornale Un fatto che riguardava, accaduto nella statale 16 Trafano e Pesero Che riguardava una persona, una persona a terra priva di vita Il nostro inviato lì sul posto ci stava riferendo, ci stava raccontando Che probabilmente si trattava di un malore In realtà, poche ore dopo, la verità era tutt'altra Ovvero che l'anziano era stato investito da un'auto Mentre attraversava al buio la statale Antonio Ippoliti, 83 anni, originario di Cagli ma residente a Pesero Ieri sera, intorno alle 19, si trovava a lungo la statale Adriatica Nel tratto tra Pesero e Fano, poco dopo l'hotel Miramare Per una ragione che solo lui sa, ha deciso di attraversare la statale Una decisione di stinto o di necessità Voleva forse raggiungere la ciclabile? Nessuno lo saprà mai Sta di fatto che questa decisione ad Antonio è costata la vita In quell'istante, provenienti da Pesero A bordo della loro auto, una Peugeot 208 Ci sono Rita e Francesco di Fano Che stanno rientrando in città Francesco è alla guida Intravede un'ombra all'improvviso davanti al muso dell'auto È l'83enne L'urto è inevitabile e violentissimo Questo è il punto sulla statale 16 Esatto in cui è avvenuto l'attraversamento mortale di ieri sera Cerchiato lì con lo spray bianco C'è il punto d'impatto in cui l'automobile ha centrato in pieno L'83enne pesarese che è stato sbalzato per l'urto Vedete, laggiù in fondo ha una ventina di metri Di sera questo punto è estremamente buio E quindi praticamente un ostacolo improvviso davanti si fa fatica a scorgere Ironia della sorte I lampioni che illuminano parte della statale finiscono proprio 50 metri prima Se Antonio avesse solo deciso di attraversare sotto la luce forse sarebbe ancora vivo Ma in quel punto non ci sono lampioni e c'è una profonda oscurità di sera Sul posto questa mattina ci sono ancora i segni dell'intervento disperato dei sanitari per strapparlo alla morte Placche da defibrillatore, cannule per intubazione e guanti sterili Ma le lesioni interne di traumi riportati nell'urto dall'uomo sono gravi E così muore sull'asfalto In creduli e sotto sciocchi due coniugi fanesi che hanno prestato subito soccorso all'uomo E chiamato il 118 e che non si riescono a capacitare dell'accaduto Ora le indagini dovranno stabilire in che senso l'uomo stava attraversando la statale A definirlo saranno le indagini sulla salma dell'83enne E perché anche si trovasse così lontano da via Confalonieri dove viveva con la sorella 95enne Un uomo è stato sorpreso a rubare all'interno del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Salvatore di Pesaro E' stato segnalato, rintracciato e poi arrestato Due operazioni distinte del nucleo operativo dei carabinieri di Pesaro Hanno portato all'arresto di un 51enne pesarese dalla segnalazione alla prefettura di tre extracomunitari Il 51enne, già noto alle forze dell'ordine, ha sottratto farmaci e indumenti ospedalieri Per un valore di circa 400 euro dal reparto di ostetricia e ginecologia del San Salvatore di Pesaro Sono stati gli stessi operatori sanitari del reparto a sorprenderlo verso le 4 del mattino di oggi Mentre si impossessava del materiale sanitario e ad avvertire i carabinieri che, una volta sul posto Lo hanno identificato ed arrestato e riconsegnato la merce al reparto I tre extracomunitari invece sono stati fermati dai militari al Parco Miralfiore Durante operazioni mirate a contrastare il degrado urbano, l'immigrazione clandestina e lo spaccio di stupefacenti I tre, tutti irregolari, avevano addosso modiche quantità di marijuana per uso personale In base a questo, una volta identificati, sono stati segnalati alla prefettura di Pesaro come assuntori di sostanze stupefacenti Corsia Nord della 14 chiusa questa mattina dalle 11 a mezzogiorno nel tratto compreso tra Fano e Pesaro Traffico deviato sulla Nazionale a causa di un tamponamento multiplo avvenuto poco prima delle 11 Tre le auto coinvolte e quattro le persone ferite lievemente, tutte trasportate al pronto soccorso del San Salvatore di Pesaro Il tamponamento è stato causato dalla coda che si era formata a causa di un precedente incidente Avvenuto poco più avanti dove un furgone Fiat Doblò ha perso il controllo e si è, finendo contro il New Jersey, ribaltandosi Il conducente fortunatamente è uscito in leso sul posto, oltre alla Polstrada, anche una squadra dei vigili del fuoco di Fano Mentre al casello dell'A14, poco fa, intorno alle 19, un camion che trasportava granaglie Per causa ancora in fase di accertamento ha disperso parte del carico lungo tutta la rampa di accesso al casello Fino all'imbocco della Corsia Nord in direzione Bologna Sul posto i mezzi della Polizia Autostradale di Fano, i mezzi di Autostrade per l'Italia Che hanno ripulito il manto stradale, nessun disagio alla circolazione che è proseguita normalmente E a Valle Bona di Apecchio sono in corso delle ricerche da parte dei carabinieri, vigili del fuoco Soccorso alpino 118 e anche l'eliambulanza Per cercare una persona che è stata segnalata da un passante dopo aver sentito alcuni lamenti o delle grida di aiuto Tutto da verificare, però ci sono queste ricerche in corso Chiudiamo adesso la pagina di cronaca Ne apriamo subito un'altra Il consigliere regionale del PD Federico Talè ha presentato in regione una mozione a sostegno dei disabili gravi Che aspettano di essere inseriti nelle strutture di urne Talè, allora i centri per disabili stanno vivendo un momento di difficoltà Lei si è fatto un po' carico della loro voce e ha portato in regione queste loro problematiche Sì, i centri diurni per disabili, i centri diurni, i centri anche residenziali Ma soprattutto i diurni ci stanno, io sono a contatto un pochino in tutta la regione con questi centri Di tutta la provincia e quindi anche della regione Sono in difficoltà per questa DGR Quindi questa delibera della giunta regionale che a dire il vero risale al 2014 Ma è alla fine del 2014, a dicembre 2014 Ma che è operativa dal 2015 Quindi a giugno 2015 siamo arrivati noi e l'abbiamo resa operativa Questa DGR li mette in seria difficoltà Soprattutto per un motivo Il motivo principale è quello che fissa nel numero dei 10 gravi per ogni centro E ci sono dei centri dove di gravi ce ne sono 12, 13, 14, 15 Insomma non è detta che ce ne siano soltanto 10 E questo cosa fa? Questo dal punto di vista economico mette in difficoltà la cooperativa che gestisce questo centro Perché la mette in difficoltà? La mette in difficoltà perché la regione riconosce un quid per ogni disabile Se è grave oppure se non è grave Se non è grave 15 euro Se è grave 43 euro al giorno Il secondo problema invece sempre relativo a questo fissare il numero 10 per ogni centro diurno È quello che tutti i centri hanno 10 disabili gravi E quindi fanno difficoltà a fare nuovi inserimenti La criticità più grande è questa Ho fatto una proposta quindi una mozione Una mozione all'aggiunta per cambiare appunto questa DGR il più presto possibile Quale sarebbe la miglioria che si potrebbe portare? Ma è semplicissimo Cioè il disabile quando entra nel centro diurno ha già una scheda OMEA Quindi già c'è l'UMEA che ci dice in che stato si trova la disabilità del soggetto Guardare questa scheda e in base alla scheda considerare il disabile se è grave o meno Il canale Albani Il canale Albani a Fano continua ad essere un osservato speciale Questa volta non tanto per gli animali che lo popolano, che lo frequentano Bensì per uno strano fenomeno di acqua alta e poi bassa che si è verificato in queste ultime ore Per rivedere il canale Albani come prima della devastante siccità Fonte di tutti i mali di questo corso d'acqua che attraversa la città di Fano Dovremo aspettare la fine del mese Momento in cui Enel Green Power, proprietaria della struttura Aprirà le chiuse per ripristinare la funzionalità della centrale elettrica a valle Ma alcuni telespettatori ieri ci hanno mandato alcune foto di un canale Albani Con il livello dell'acqua quasi nella norma Tant'è che anche alcuni suoi abituali frequentatori come le Nutrie si erano fatti rivedere Ma le chiuse sono rimaste tali di nome e di fatto Ed allora che cosa è successo? L'abbiamo chiesto all'assessore all'ambiente Samuele Mascarin Dunque ci sono stati in queste ultime settimane diciamo dei fenomeni di aumento dell'acqua all'interno del canale Albani Ma questo è legato alle precipitazioni che ovviamente hanno in alcuni giorni coinvolto direttamente L'asta del canale e nei giorni successivi il flusso vitale La chiusa che separa il canale Albani dal fiume Metauro ha avuto alcuni piccoli passaggi legati semplicemente al fatto che le piogge dell'entroterra hanno innalzato il livello del Metauro E quindi hanno reso il flusso vitale che formalmente è sempre stato mantenuto più importante Ma complessivamente di fatto le chiuse dal periodo estivo non sono più state riaperte Senza perdere tempo la scorsa settimana abbiamo comunque come amministrazione comunale io e il sindaco Massimo Seri In contrato i vertici nazionali di Enel Green Power per provare a definire diciamo una serie di interventi programmati Che ci permettano nei prossimi mesi senza aspettare la prossima stagione estiva Di poter organizzare tutte quelle attività funzionali a garantire il decoro, la pulizia, l'aspetto igienico e sanitario lungo tutta l'asta del canale E questo alla luce come dire di un programma condiviso dove siano chiari anche i ruoli e le funzioni Senza rincorrere su diciamo così la scia dell'emergenza Quelli che sono stati i problemi, le criticità che in questa stagione eccezionale di siccità Non solo per Fano ma per tutto il territorio provinciale e nazionale hanno segnato per il canale Albani Quando sarà operativo il nuovo ospedale unico Fano Pesaro che sorgerà come è ormai chiaro e noto a tutti a Muraglia Ci saranno solo bambini nati a Pesaro così verrà scritto sul documento Questa cosa, questa idea non piace molto al centrodestra fanese che continua a ripetere di non voler diventare e non voler essere succubi di Pesaro Un'altra questione portata all'attenzione del Consiglio ieri da parte vostra è stata il discorso del cecchie Quindi scuole che possono aprirsi ma che non si aprono a Fano Qui c'è un disegno preciso del PD provinciale e in pratica anche e soprattutto del presidente della provincia e del sindaco di Pesaro Che tende a svilire e a far inglobare la città di Fano che è la terza città delle Marche all'interno di Pesaro Perché hanno localizzato l'ospedale a Muraglia grazie al presidente della provincia e al sindaco di Pesaro Che non è baricentrico tra Fano e Pesaro Hanno tolto la direzione scolastica al Battisti Sempre grazie alla provincia e al sindaco di Pesaro L'agrario non è venuto a Fano perché il sindaco di Pesaro non voleva Allora ai nostri amministratori locali, al sindaco e alla maggioranza abbiamo chiesto Vogliamo cominciare ad alzare la testa e a diffidare queste persone Perché c'è evidentemente un piano che tende a svilire la nostra città Ieri invece il sindaco, incredibilmente, la maggioranza hanno votato contro E quindi hanno detto anzi giustificato il presidente della provincia E questo suo atteggiamento contrario a Fano l'hanno giustificato Allora un'altra questione venuta alla ribalta ultimamente è i punti nascita Sembra che una volta che l'ospedale unico verrà realizzato Nato a Fano sulle carri d'identità non ci sarà più Non nasceremo più fanesi ma pesaresi, questa è l'ennesima prova della sudditanza del PD locale e dell'amministrazione Nei confronti del PD pesarese, tant'è che proprio oggi il presidente Ceriscioli ha dichiarato Che il punto nascita sarà nel nuovo ospedale Quindi nasceremo fanesi fino alla costruzione del nuovo nosocomio E da quel giorno in poi saremo tutti ufficialmente pesaresi L'ennesima prova che stanno svendendo la nostra città Farete azioni per cercare di contrastare questa deriva? Faremo di tutto per imporre il diritto ai fanesi di nascere a Fano Ma soprattutto di mantenere la nostra città degna del suo nome Ovvero la terza città delle Marche Visto che ci hanno tolto tutto e la stanno smantellando completamente Ma sulla questione sanità c'è un altro aspetto che preoccupa la politica fanese Quello dei trasporti sanitari che subiranno tagli drastici Con la diminuzione delle prestazioni ed il licenziamento degli operatori privati Allora il problema della sanità si sta avviluppando attorno a un'altra questione Che è quella dei trasporti dalla duplice valenza Trasportati e trasportatori Sì esatto, è notizia proprio di ieri che c'è stato un taglio di 1.400.000 euro Sui trasporti non sanitari che riguarda la dialisi Quindi i dializzati, i pazienti dismessi e le visite Questo significa 1.400.000 euro in meno E oltre 30 posti di lavoro persi per la Croce Azzurra di Fano E anche altri tanti per la UAN di Pesaro La nuova vincitrice non assorbirà questi dipendenti Quindi ci troveremo 50 anni senza lavoro E il comune naturalmente siccome è un bando regionale Se ne lava le mani Questo abbiamo visto ieri in consiglio comunale A seguito della nostra interrogazione Altro problema è essendoci 1.400.000 euro Il taglio avverrà naturalmente sui servizi Quindi io chiedo a tutti i pazienti e a tutti i cittadini Che usufruiranno di questo servizio Di vigilare e farsi portavoce tramite noi Consiglieri comunali di tutte le carenze Che si verificheranno da ora in avanti Adesso parliamo invece di una coppia Una coppia di sposi Edera e Giuseppe Che pensate stanno insieme da 70 anni Sono venuti in matrimonio da 70 anni Noi oggi ne abbiamo incontrati Edera e Giuseppe 70 anni di matrimonio oggi 4 figli 10 nipoti E altrettanti pronipoti Una vita insieme 73 anni Per la precisione Se contiamo anche quelli di fidanzamento Sua moglie è contentissima di questi 70 anni Lei è contento? Altrettanto io Come sono stati questi 70 anni? Sono passati bene Perché siamo andati sempre d'accordo 3 anni e mezzo di fidanzamento Sempre d'accordo Un'altra 70 anni di matrimonio Senza una parola lo contrario Sempre bene Originari di barchi Una vita in campagna Fatica e aria buona Li hanno portati a passare la soglia dei 90 anni Dal 57 in poi però Per 20 anni La piazza del mercato di Fano Col banco di frutto e verdura È stata la loro seconda casa Oggi le nozze di ferro Ma più che di ferro Sarebbe bene dire D'acciaio Come la loro unione Fatta di rispetto E di tanta bontà Questi 70 anni di matrimonio Come sono stati? Molto belli Molto 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 È stata una vita bella Vissuta bene Bella 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 Mai litigato Mai 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 litigato? No Mai Mai litigato perché lui le dava sempre ragione? No No Sempre No No Abbiamo fatto come andava a fare Io sempre bravo e lui sempre bravo Ah poi Così Tanto qualche parola passata lì e tutto è finito Ma il segreto che questi giovani moderni forse non lo conoscono Cosa gli possiamo dire di consiglio? Che andava a fare come noi Ecco Andava a essere Ogni su su andava a stare E per me è tutto così Insomma d'amore e d'accordo? Molto 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 sì Come passate le giornate? Qual è la vostra giornata? Cosa fate? Siamo sempre in casa Preghiamo molto Quello sì posso dire Come no? Preghiamo molto sì sì È già qualcosa bello anche quello Ecco è un conforto Molto 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 sì Svelato dunque il segreto e auguri davvero di cuore Visita a sorpresa lunedì scorso dell'attore italiano Fabrizio Bentivoglio Che all'ora di pranzo si è concesso una pausa in una nota trattoria di pesce Che si trova davanti al porto di Fano La quinta Bentivoglio era accompagnato da un gruppo di persone Ha pranzato a base di pesce E poi si è concesso ad alcune foto come questa che lo ritrae insieme a due dipendenti della trattoria E prima di salutarci salutiamo un'altra coppia Facciamo gli auguri per i 64 anni di matrimonio a Ezio e Maria Ancora devono arrivarci a 70 Ci arriveranno certamente Però ecco Gli auguri li facciamo per questi 64 anni insieme Complimenti anche a voi Grazie E adesso ci salutiamo qui Il telegiornale torna domani Mentre alle 7.30 di domani mattina Sempre qui sul 17 C'è la rassegna stampa Occhio ai giornali Grazie per averci seguito Buona serata a tutti Grazie per aver guardato il video